Ok, ok. Allora, che si fa? Ok, io l'ho costruito. Io penso che sia così da quello che ci hanno detto in commenti. Quindi, vai, dagli fuoco. Sì, funziona! Funziona ed è parecchio brutto. Ok, andiamo? Aspetta, aspetta. Siamo bardati come mignotte tutti e due, sì? Ti faccio pure la scaletta d'ingresso, Art. Siamo pronti? Siamo pronti per entrare in questo magico mondo, ragazzi. Ciao sole, forse è l'ultima volta che ci vediamo. Ragazzi, questa potrebbe essere davvero l'ultima volta. Gira, guarda, guarda il tramonto. Ah! Ah! Do sei animata? Io te l'ho detto che lasciare buchi non aiuta, eh. Testa di cazzo. Volevo guardare il tramonto, aspetta, aspetta. Guardate quanto è idiota, guarda, io non lo so. Non è, c'è quel porco. Ce la fai? Hai bisogno di qualche cosa? Eh, ho bisogno di qualche secondo di pazienza per salire. Di sicuro non ho bisogno di uno stronzo che mi chiuda la terra sulla testa. Ok, ragazzi. E con il... Guarda il tramonto, guarda il tramonto quanto è bello. Ok. Appena il sole scenderà, noi partiremo in missione. Andremo nel nether. Andiamo. Andiamo che è arrivata l'ora. Guardati, mignotta. È ora di partire. Guardate, lui c'ha le spade di tutti i tipi, c'ho quella di Doomsday. Spada di merda. Dai, entra! Ok. Aiuto! Il mio personaggio si è fatto una canna, decisamente. Ok. Oh. Beh, non è così pericoloso come dicevano. Abbastanza fattibile, insomma. Dicevano. Sono irrompibili queste cose, chi? No, si possono rompere. Queste sono quelle che bruciano in eterno quando le accendi. Ah, ne voglio diverse, allora. Così possiamo farci sto cazzo. Bene. Io direi che è ora di affrontare questo mondo. Sì. Bello. Allora, diciamo che... Ho trovato della pietra mai vista prima. Cioè? Ha delle... Ha delle fratture. Occhio che sei cazzo... No, no! Madonna, madonna mi sono cagato su... Nether Quartz è una cosa mai vista. Non l'ho mai vista. E il Queens? Troviamo anche il Queens, così facciamo la raccolta. Vabbè. Affrontiamo questi mostri qui nel Nether. Abbiamo la sabbia delle anime. Tu credi che si debba affrontare queste creature? Guarda la sabbia delle anime con... È molto spaventevole. La sabbia delle anime ti rallenta quando... Guarda, guarda. Guarda la sabbia delle anime. Eh, lo so, l'ho vista, l'ho vista. È molto strano. Lo so, ragazzi, che il suono cambia di continuo, ma il microfono è in mezzo. Quindi, quando ci muoviamo... Ok, dove... Oh, cazzo è? Oh no, cazzo, c'ha visto! Via, 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 via! Io, io c'ho visto. C'è il Super Gigamostro, lì. Dov'è il Super Gigamostro, lì? Dov'è il Super Gigamostro, porca troia? Che è quella specie di seppia? La seppia volante. Ma non fa paura, sembra un testicolo con i tentacoli, che fa anche un po' rima, se vogliamo. Sta arrivando la seppia con i tentacoli. Bene, e noi lo affronteremo. E noi lo affronteremo in un'ultima battaglia evica. Sta arrivando! Ah, quelli sarebbero i suoi colpi? Figliolo, noi siamo giocatori FPS, dovrai impegnarti un po' di più per colpirci. Anche perché fai cagare, anche se noi stiamo fermi. Oh, però, pericoloso il ragazzo. Ahia, ma preso. Beh, soltanto te poteva prendere. Sta merda. Ma sta a mezzo alla lava, non si fa niente. Senti, secondo me è così. Madonna, che liscio che mi fa. Ok, andiamo. Fa veramente cacare questo mostro. No, lo vogliamo bullizzare, non lo so. Prendevano per il culo fino a domani. Bellissimo. Ah, infatti se n'è andato, ha detto, ah, ci rinuncio. Io prendo un po' di cose così magari arriviamo alla fine di sto mondo di merda. Vabbè, fa veramente cagare. È finito a prenderlo in giro quel povero mostro che... No, vabbè, ma il problema è che... Ci sono... Cioè, vorrei avere tantissimo un fucile, qualcosa per sparargli. Se vuoi ho un arco, se ti vuoi dire. Ah, ma preso in pieno. Eh, so già due, eh. Ti sei fatto colpire da... Veramente. Io non so a che serve questo Nether Quartz. Non lo so, ma di sicuro potrebbe essere molto utile per la costruzione di cose di un certo livello. Non lo so, non lo so, non lo voglio sapere. Che facciamo? Ci buttiamo in caverna anche nel Nether? Ma no, 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 guarda, c'è qualcosa sopra di noi. Io direi di arrivare sopra di... Aia, aia, brucia, 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 brucia. Complimenti, sei uscito in un punto veramente. Brucia, brucia, brucia. Vuoi acqua? Brucia, brucia, c'hai acqua? No. Brucia, sto per morire! Allora, saliamo, saliamo su. Ah, ma, ah, madonna, ma non avevo visto che succeda tutto sto ben di Dio. Saremo, saremo su, direi che è un'opzione... Carina. Ok, allora, io salgo. E se moriamo sono abbastanza cazzi. Beh, se moriamo sarà la giusta conclusione di questa avventura che per il momento sta regalando solo brutte sensazioni. Ok, ma tu stai venendo dietro a me? Ah, assolutamente no. Ok, io sono arrivato al piano di sopra. E ci sono dei porci, mi sembra. Anch'io? Veramente sono più sopra di te. Ciao! Eh, eccoti. Ok, vediamo un po'. Ma i porci non ti attaccano? Se non li... non gli rompi il cazzo, no. Quindi immagino che tu gli sia già rompendo il cazzo. No, 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 non li ho toccati, non li conosco, non so qual è l'entità della loro... Droppano l'oro però. Oh, cazzo, 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 cazzo sto prendendo fuoco. Secondo me sei per morire. Devo mangiare, devo mangiare, devo mangiare. Devo mangiare così guarisco. Ci dovevamo portare dell'acqua in effetti, eh. Devo mangiare, porco, cazzo, porco, porco, il cazzo, porco. Bravo, bravo, bravo. Sei stato molto bravo. Ok, ragazzi, è su Sinergo che muore. Il respawn ha tipo 5 milioni di chilometri indietro. Io dico che mi ammazzerò per te, lo farò per te, guarda. Io non posso vedere nulla, purtroppo, purtroppamente. Sto per morire. Redez ha provato a nuotare nella lava. Ed eccoci qua, iniziati dal punto iniziale dell'inizio assoluto. Esatto, ok, è un serpente che si morde il culo, come si dice. È un cane che si morde la coda. E dopo aver viaggiato per Mari e Monti. E basta? Mario Monti. Mario Monti. Vaffanculo. Ti prendo a cazzotto. Allora, ragazzi, questa serie, vabbè, era anche ora che finisse questa merdaccia. Sì, ragazzi, speriamo di avervi fatto sorridere, almeno un paio di volte. Intrattetti. Intrattetti. Vieni, ti regalo un fiore. Vieni che ti regalo un fiore. Grazie, grazie. Posso pestare anche con i fiori. Donna. C'è un creeper. Mi ucciderò nel modo più bello possibile. Ah no, non mi ha ucciso. Mi ha ridotto in fin di vita. Ok, ragazzi, è stata una bella esperienza per noi. Vi regalo con questo fiore, per la fine, vi regalo un fiore. Che cosa c'è in fin di vita? La culo. Hai capito? No. La vita? Cosa c'è in fin di vita? Oddio, madonna. Ok, chiudiamola così.